Ciao ragazzi e ben ritrovati su The Division 2 La settimana scorsa c'è stato un evento importante di presentazione di The Division 2 dove sono stati svelati alcuni contenuti prettamente PvE Come le volte precedenti io ringrazio di cuore Ubisoft Italia e EveryEye per avermi dato la possibilità di avere questi video ed informazioni per potervili poi mostrare a voi in anteprima In questo video andiamo a vedere un incipit una piccola porzione di missione iniziale che fungerà da intro per il nostro percorso di questi giorni la liberazione della Casa Bianca che sarà la nostra nuova base delle operazioni a Washington Il gameplay è molto semplice vedetelo come un piccolo tutorial o introduzione a quello che sarà poi lo shooting all'interno del gioco un po' come succedeva anche su The Division 1 che per sbloccare la base bastava uccidere qualche mob che era di fronte alla struttura Vi ricordo che nei prossimi giorni usciranno anche altri gameplay specifici e approfondimenti sugli argomenti più recenti come abilità, i talenti, gli accampamenti, i punti di controllo e tanto altro quindi preparatevi perché sarà una settimana piena zeppa di informazioni su The Division 2 Vi lascio al gameplay Noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.